Musica Ciao a tutti ragazzi io sono Dami ed eccoci qui in un nuovissimo video su Minecraft nel nostro let's play in hardcore Siamo all'episodio 19 e di nuovo in full hd perchè ho appena letto i commenti dello scorso video che è uscito stamattina Io sto registrando sempre il martedì quindi chi mi chiede di salutarlo dopo il martedì o comunque dopo martedì alle 5 e mezza Purtroppo non lo posso salutare quindi mi dispiace però è così Ho letto i commenti e vi è piaciuto un sacco comunque la qualità in hd E anche se non va tutto a scatti Ma forse perchè si sta generando il mondo eh per quello per quello Ok e vi è piaciuto così e anche a me è piaciuto un sacco comunque la qualità che è venuta E il file finale che devo caricare poi non è neanche tanto grande Rispetto a quelli in 720p comunque un video di 20 minuti più o meno Tiene come quelli in 720p quindi va benissimo così Allora in questo video voglio andare a costruire il magazzino che mi avete chiesto veramente in tantissimi E penso che lo farò qua perchè in questo pezzo qui non abbiamo ancora fatto niente E voglio un qualcosa qua non so perchè ma voglio un qualcosa qua Quindi eh andremo a fare appunto il magazzino E eh ah intanto vi faccio vedere qui che ho fatto anche tutto Tutta sta cosa qui ovvero di mettere tutte le scale No le scale c'erano già però i pilastri in legno e queste cose qui Che avevo già fatto anche nell'altro mondo per abbellire un po' la cosa E il progetto della ferrovia andremo avanti appena potremmo Ora un sacco di progetti per la testa e soprattutto che mi date consigli voi Tipo anche delle foto che mi mandate su facebook Ora non so se in questo momento scorreranno delle immagini qui davanti Però comunque vi devo ringraziare perchè state veramente facendo un sacco di costruzioni E io lo apprezzo molto Allora Dato che in questo video dobbiamo fare il magazzino Io mi sono già preparato appunto come sempre un abbozzo in creative E ehm Ora Devo solo guardare un po' le dimensioni perchè Se lo voglio mettere qua Allora vi dico subito che E su due piani così almeno non creiamo una cosa gigante qui E su due piani però penso sia abbastanza carino Come viene Ah in creative ho fatto anche una costruzione per il portale del nether Che ha anche le porte automatiche come vi avete suggerito di fare Quindi ci sono rimasto un po' in creative a pensarci Perchè non riuscivo a fare queste porte automatiche Ehm Anche che si aprissero da fuori con un bottone Però ora funziona tutto alla perfezione Ed è una figata assurda E faremo anche quello in seguito Allora Ehm Stavo pensando se metterlo lì o qua però Ora che ci penso No 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 Devo metterlo qua perchè sennò Ehm Non Laggiù poi rimane un po' troppo fuori E quindi La cosa delle ceste deve essere comunque A portata di mano Deve essere veloce da andarci E tutte queste cose qua Perchè se ti serve un coso di materiali Devi prenderlo subito Senza star lì a cercarlo in giro Quindi Ora andiamo a dormire Aspettiamo che questi alberi cadano un po' E Ehm Penso più o meno a che materiali farlo Allora Io in creative ho usato principalmente stone brick Però Ehm Avendo usato questo stile di costruzione Con la cobblestone legno Così Devo adattarmi a questo Quindi cobblestone Qui ho fatto Delle ceste qua Che ho un sacco di pietra Qui non c'è niente Che ho messo a cuocer Quindi siamo a posto Ehm Legno Ehm Tra questi due Allora Questo cos'è? Guardiamo subito Questo è un legno di abete Perché ce ne erano sette prima Ok E' un legno di abete Quindi E' quello Perfetto Quindi se Se poi ci serve legna Dobbiamo abbattere tutto quello E sarà Abbastanza divertente Allora Ehm Come detto non è molto grande E Ehm Praticamente 8 blocchi Di larghezza In pratica E' praticamente Un Un quadrato Di base Allora Qui voglio comunque lasciare Un pezzo Per passarci Penso che questo Basti Ehm Poi Magari Una cosa di questo tipo Se riesco a prendere il piccone Allora Due blocchi Non voglio farlo Però Ora guardo un attimo Allora Mi servono anche Due scale Ma possiamo farlo dopo Tema che queste scale Sono queste Qui ci devono essere Tre blocchi Quindi possiamo farlo Perfettamente qua Ok Perfetto E qua Sarà praticamente Il nostro magazzino Quindi noi avremo anche La disponibilità Di passare qui E andare Dove vogliamo E Qua avremo il nostro magazzino Che come ho detto Si svilupperà su due piani Anche se Comunque Ehm Avendo due piani Non Non faccio Scale Magari Proprio con scalini Ma Faccio le scale a pioli Che comunque A me sono sempre piaciute Le scale a pioli Non so se a voi Sono sempre piaciute Anche Però Cioè Queste cose qua Veramente sono una figata assurda E che cos'è Allora Comunque devo mettere anche A cuocere della sabbia Perché mi serve del vetro Quindi direi che Facciamo una piccola Capetina laggiù Perché qua Non voglio deturpare La mia sabbia Preziosa Vicino al ponte E Appunto Ci prendiamo un po' Di sabbia Da qua Così almeno Siamo a posto Allora Comunque Sono strafelice Che vi è piaciuta La qualità E Finalmente Youtube Con il 1080p I video su Youtube Si vedono anche Abbastanza Decentemente Ah se non Non so Quanti di voi L'abbiano visto Sto cosa Però qui abbiamo Un canyon Con delle moccie La sotto Ma questo è un dettaglio Particolare Che c'è anche Un albero Ok Comunque non è molto profondo Anche se cadiamo Non dovremmo morire Però comunque abbiamo Anche un canyon Non so Quanti episodi Fa lo scoperto Forse Molti di voi Non lo sapevano Neanche Però Si C'è un canyon Magari vedremo Di farci qualcosa Anche dentro Ma Non lo so Magari Molto più avanti Allora Dato che Qui Metter solo Cobblestone Non mi va Devo cominciare A mettere anche Della legna Allora Qua Dato che qua Ci andranno le scale Qui ho una bella Workbench Ho un banco da lavoro E' uguale Facciamoci un attimo Delle scale Ok Perfetto E questa sarà La nostra entrata Qui ho deciso Che metterla legna Perché non voglio fare Una cosa del genere Ok Ok Vedremo un po' Poi il risultato finale Se non mi piace Lo cambio Però adesso Facciamo così Ok Allora Intanto Stamattina Abbiamo avuto Una supplente Che Di filosofia Perché stamattina Non Cioè il mio professore Di filosofia E' andato in viaggi Nozze Non so con chi Tipo con un altro Professoresso Ma questi sono dettagli E diceva sempre Ok Abbiamo contato Che in 50 minuti Ha detto Tipo 78 volte Ok Quindi 1,56 O qualcosa del genere Volte Al minuto E Si fa un po' ridere Però Non so perché diceva sempre Ok Sta qui per spiegare E sembra quasi me Come Con nei video Con nei video Che italiano E Nei video Quando cerco Di registrar Che dico Mille volte Perfetto Mentre costruisco Oppure Anch'io Dico ok Però questi sono dettagli Perché io può E quindi Si Ora mi metto a tagliare Quest'albero qui Perché mi serve Il del legno Ok Io prima avevo sbagliato Legno Perché questo E questo Vero No Ecco 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 Avevo sbagliato Legno Quindi Si Ora sembra un'opera D'arte Cioè Guardate E' un'opera D'arte Sta cosa Ok Devo Che polle Non so parlare Ok Devo mettere questo legno qua Perché è più figo E Ok Ho finito anche l'accetta Quindi Devo spaccare un po' Di legna A mano Ma Non dovrebbe essere Un grande problema Allora Qua In pratica Sarà una struttura Fatta In questo modo Io ora Tolgo un attimo Un po' di terra Così almeno Riusciamo a capirci un po' Ok Perfetto Allora Ehm Sul Povimento Metteremo dei vetri Così almeno vediamo anche il piano Ehm Sotterraneo E La scala Sarà esattamente Qui Più o meno Comunque al centro Perché Io devo arrivare Se devo andare Sotto Arrivo Mi butto giù Vado Cerco Salgo E faccio queste cose qui Così almeno Magari non devo girare Per andare sotto Fare queste cose Ma ce l'ho subito davanti E se appunto Devo andare Andare a prendere Delle cose sotto Ehm Vado qui Che c'ho poi la scala Allora Ehm Qua Ora io mi faccio un po' La struttura off camera Così almeno mi vado anche a guardare Quella lì Che ho fatto nel mondo In creative E Mi guardo un po' Misure E ste cose qua E anche Mi studio un po' Con che materiali farlo Così almeno magari viene Un Un qualcosa di carino E E poi ci vediamo fra poco Allora Sono qua Ho preso un po' Le misure Ho fatto Sta cosa qui E Ero intento a scavare Però Dato che Uno Di voi Un po' di tempo fa Mi ha chiesto se Avrei mai usato La TNT Ora che ci penso Che non ho voglia di scavare Proviamo a usare una TNT Sì Perché no Allora Qui abbiamo della polvere da sparo E qua ne dovremmo avere un sacco Ecco qua Allora Se mi ricordo bene Si fa in questo modo Ma non sono sicuro Perfetto Al contrario Allora Dobbiamo prendere tutta questa roba qui E fare in questo modo Perfetto Una TNT Allora Andiamo pure a dormire E E usiamo appunto La TNT Per scavare un po' La parte sotterranea Dato che proprio Non ho voglia di scavare Direi di Provare appunto Questa cosa qui Allora Mi serve un acciarino Ma Non ho voglia di farlo Quindi Cioè più che altro Non ho voglia di sprecare materiali Per farlo Dato che ne ho uno nel nether E qua praticamente Non mi serve A parte che In questi casi Mi sarebbe servito Però Noi facciamo così Azioniamo sta TNT Con un semplice Con una semplice torcia Di pietra rossa E siamo a posto Allora Io direi di scappare Ok No Io non volevo che mi distruggeva proprio tutto Ma hanno incrementato la potenza Delle TNT O qualcosa del genere Perché io non mi ricordavo Che facevano tutto sto casino Ok 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 Devo rifare la struttura Quanto pare Va bene Va bene Non è che ho perso anche del legno Perché ci ho messo tre ore a prenderlo Allora Mentre scavo ancora Un Un pezzettino qua Un altro livello Perché Se no Non mi basterebbe Permettere anche i vetri Ne approfitto per salutare E intanto Qui davanti Basteranno magicamente Delle immagini Di Io che scavo diamanti Grazie a Gabriele Leonardi Per La La gentile La gentile Come posso dire Sì perché mi ha dato le coordinate Per trovare questi diamanti Quindi Io vi consiglio Di ringraziare tutti Gabriele Leonardi Per tutti I diamanti Che mi ha fatto prendere E intanto Io comincio a salutare Dennis Iseppi Stefano Puga Freak The Mighty Super DVD Nabbo Cristian D'Amico Ajax 2098 Natale Gulotta Joker 912 Edoardo Notti Assassin Assassin Game Ractor Lele Auditore Attilio Simonte King David E pazzo per Apple Apple sarebbe Però Apple Non so perché l'ho detto Tipo Qui C'è un mio amico Che chiama un altro suo amico Apple Quindi mi è venuto a dire Apple Però fa niente Quindi sì Dovrebbero essere passate Magicamente Qua davanti Delle immagini Di Di me Che scavo diamanti E ora Sono in una situazione Un pochetto brutta Perché non so Come gestire la cosa Allora Devo prendere Altro legno Quindi Facciamo una bella cosa Io ora stacco E guardo Da quanto sto registrando Se manca ancora Un po' di tempo Faccio tutto off camera E vi faccio vedere Il lavoro finito E Se invece Ne manca ancora Tanto Tanto tempo Posso anche Far qualche Spezzone Mentre registro Però comunque Adesso Guardo appunto Da quanto sto registrando Ma che cacchio Sì Ok Comunque sì Sono andato avanti E ho finito In pratica Devo solo più fare il tetto Che farò off camera Perché Veramente oggi Non ho più tempo Devo fare altro Quindi Lo farò più avanti E poi sposterò Anche tutti i materiali Qua Come detto Ho fatto il pavimento In vetro Ho fatto anche Dei vetri lì Ho fatto un po' Di cose Ho aggiunto Un sacco di ceste Allora Ce ne sono due Quattro Sei Otto Dieci Dodici Quattordici Sedici Diciotto Venti Vintidue Vintiquattro Vintisci Vintotto Ceste Singole Quindi Quattordici Ceste Doppie E Questo vuol dire Che Potremmo mettere Veramente un sacco Di materiali Come vedete qua Ho fatto anche Tutta sta cosa Ho messo il vetro Qui perché volevo Appunto i raggi solari Forse li metterò Anche sul tetto I vetri E Però niente Questo video Finisce qua Come al solito Voi datemi consigli E tutte queste cose qui Il libro Penso che Lo firmerò Poi Dopo Appena Finisco di aggiungere Tutti Perché Così almeno faccio 10 14 15 19 Vado avanti In questo In questo modo qua Ecco E E niente Noi ci vediamo Con il prossimo video Ciao ciao Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo